A Custimantico, a Lucania Film Festival, 12 anni dopo. Bentornati. Cosa è cambiato per voi in questi anni e per il mondo che vi circonda? Domanda difficile. Per noi sono cambiate molte cose, anche se sembra che poi il tempo non scorra così velocemente. Invece scorre velocemente. Infatti, qui Pisticci è sempre più bella, quindi significa che qualcosa di positivo c'è. Roma sembra meno bella dopo 12 anni. Quindi, insomma, noi siamo veramente contenti di ritornare qui a Pisticci, per molti motivi. Molti di questi motivi poi chiuderanno questa nostra intervista, più avanti. Bene. Molta gente vi conosce per canzoni come Fiori di Loto, che sono canzoni comunque molto ritmate, che possiamo anche definire così luminose, con richiami a musica dell'est, ma alla danza del mondo in particolare, no? In generale. C'è però un mondo degli acustimantico fatto di ballate suggestive, di canzoni notturne. Quali dei due mondi preferite? Allora, non c'è un mondo che noi preferiamo tra questi due. In realtà, noi siamo tutte e due le cose. Quindi, ci piace essere festa, ci piace essere condivisione, momento di grande energia col pubblico, di comunicazione. Così anche, è importante che noi raccontiamo anche la nostra storia interiore attraverso i testi di Danilo Selvaggi, che scrive poi tutti i testi di Danilo e di Acustimantico. Noi cerchiamo di raccontare anche una vicenda individuale, collettiva, specialmente in quest'ultima esperienza che stiamo portando avanti, che poi sfocerà in questo disco Tempo di Passaggio. E raccontiamo anche il turbamento e la modificazione delle percezioni interne che sono legate a tutto quello che ci sta succedendo intorno. Quindi, tutte e due le cose sono molto importanti. La luce e anche quel tratto di luce e oscurità interna di ciascuno di noi. Quindi, è molto bello. E appunto, dicevamo che in uscita è il nuovo disco, Tempo di Passaggio. Come sarà questo nuovo disco e perché Tempo di Passaggio? Allora, questo disco sarà bellissimo. Intanto no, posso dirlo serenamente. È un disco che ha richiesto una lunga gestazione perché ci siamo concessi il lusso di cambiare idea come solo le persone intelligenti riescono e possono fare. Quindi, di non fissarci su quella che era un'idea iniziale, ma abbiamo lasciato che questa idea poi prendesse una sua forma come l'acqua, no? Cioè, una forma assolutamente adatta a quello che ci stava capitando. Anche questo è un tempo di passaggio. Cioè, il tempo che ci vuole perché le cose prendano forma. Quindi, non forzare. L'idea iniziare era quella di fare un percorso nel Novecento perché con Santa Isabella, l'ultimo disco in studio che abbiamo fatto avevamo cominciato un discorso su Emanuel Carnevali, un poeta migrante un poeta conosciuto poco in Italia, più conosciuto negli Stati Uniti da cui poi abbiamo realizzato in questi anni uno spettacolo teatrale e da lì, che si chiamava M, ovvero Emanuel Carnevali va in America e da questa esperienza, pian piano, era venuta l'idea di fare un percorso poi nel Novecento, cioè nella cultura, nella letteratura, insomma in ciò che era successo nel, ormai possiamo dire, secolo scorso. Poi invece, pian piano, le idee sono cambiate e è venuto fuori un disco con un respiro più ampio, più internazionale e anche più attento a quello che in realtà sta accadendo in questo momento per cui il tempo di passaggio è sicuramente il tempo di passaggio che fisicamente porta le persone a migrare, cioè a spostarsi e non solo le persone, ma anche le parole, la poesia così come era per Emanuel Carnevali da un posto all'altro, ma anche il tempo appunto che ci vuole per fare le cose, per tirar fuori un'idea, per elaborarla e la consapevolezza che il mondo sta cambiando quindi è un tempo di passaggio che uno può guardare da più lati sopra il tavolino, sotto il tavolino comunque ha un flusso, cioè un movimento ci sono fiumi da attraversare, elogi di castelli in aria insomma è un viaggio anche questo quindi è una forma, è una multiforma questa nuova esperienza e insomma questo mi rende particolarmente orgogliosa e contenta I riconoscimenti alla qualità della vostra arte sono indubbiamente numerosi ma quanto è difficile oggi fare e soprattutto promuovere la musica d'autore in Italia? è molto difficile come è difficile qualsiasi altra attività che sia legata alla dimensione creativa e proprio anche dentro tempo di passaggio c'è una riflessione su questo cioè sull'idea di quanto possa essere inquietante e disturbante per chi produce delle cose non avere una reale prospettiva non avere delle possibilità nello stesso tempo c'è anche il riconoscimento delle energie di cui siamo circondati in questo momento cioè se è vero che diciamo per la cultura in Italia in Italia e forse anche in Europa in questo momento le cose non vanno molto bene però ci sta un fermento ci sta un'energia bellissima che si respira qui si respira in altre situazioni abbiamo fatto festival abbiamo fatto noi tutti nel bene o nel male insegniamo anche la musica insegniamo a suonare insieme le persone e ci rendiamo conto che c'è tanta buonissima energia allora è difficile molto complicato ma io ho fiducia tutti noi abbiamo fiducia che in qualche modo questo cambiamento arrivi arriverà perché siamo anche arrivati a un punto di saturazione di un certo tipo di cultura imposta massificata di compravendita mercantile delle idee e delle cose e quindi sono convinto che questo cambiamento è già alle porte e siamo a Lucania Film Festival quindi in questi giorni respiriamo un po' il cinema qual è il vostro rapporto con il cinema anche da un punto di vista musicale? vado io che sono la cinefila di turno allora per me personalmente il cinema è tutto cioè nel senso una canzone per me è un corto nel senso che ogni canzone per me ha una location ha una luce quindi ha in quel momento io sono contemporaneamente regista, attrice interprete direttrice della fotografia e non è un delirio di onnipotenza è semplicemente la possibilità di dare il mio punto di vista la mia versione dei fatti di una storia che sto raccontando così come fa un qualunque filmmaker e siccome sono cresciuta a pane cinema metto in tutto quello che canto sinceramente la mia cultura cinematografica che mi aiuta costantemente anche lì senza aver paura di cambiare idea nel senso che può essere un film bianco e nero come può essere un film a colore o pieno di effetti speciali quello è tutto nella mia testa che poi si rivela nella musica perché appunto è coadjuvato non solo da testi che mi consentono di poter raccontare che sono delle sceneggiature ma anche una musica e una colonna sonora suggestiva che quindi sottolinea ogni scena che io penso perché chiaramente questo se no non potrebbe avvenire poi credo che per tutti noi da un punto di vista strettamente musicale l'idea di pensare musicalmente come a una colonna sonora ci sia sempre stata perché anche il fatto che Acustimantico nonostante abbia sempre avuto un organico relativamente ristretto ha sempre pensato in modo orchestrale e quindi credo che questa idea questo poi adesso passo il microfono a Stefano perché ovviamente in questo è responsabile lui credo che ognuno di noi avendo una sensibilità molto forte rispetto all'immagine una suggestione alla poesia poi che è perché non è una brutta parola la parola poesia riappropriarsi del senso letterario di questo termine di quello che è intrinseca proprio nella musica quindi ogni canzone ogni pensiero credo che sia pensato proprio come una colonna sonora cioè come qualcosa che accompagna descrive sottolinea fa anche sviluppare il pensiero musicale e quindi anche letterario però passo a Stefano che forse può aggiungere qualcosa più che aggiungere cose di carattere tecnico che sono poco interessanti in questo momento stavo pensando mentre lei diceva questa cosa ogni canzone una colonna sonora stavo pensando alle email che ci vengono mandate dai nostri fra virgolette fan le persone e è molto interessante torna molto spesso questa cosa di raccontarci che alcune canzoni hanno rappresentato per loro la colonna sonora di momenti importanti e devo confessare che sia questo vale ovviamente per il mio ascolto di altri autori ma pure per me alcune canzoni che mentre le suono e mentre le riascolto anche per ragioni nostre di lavoro eccetera c'è una catena di immagini di racconti di ricordi di anche relazione delle canzoni con dei fatti importanti della nostra vita che mi tornano su e quindi vivo continuamente una relazione emotiva che rimane legata al mio rapporto anche tecnico con questo con questo materiale e il cinema naturalmente anche il cinema è il novecento cioè la cosa che noi abbiamo affrontato nel tempo di passaggio ma anche in Emanuele Carnevali che è anche un disco che abbiamo pubblicato due anni fa è proprio che cosa è successo in questo secolo pazzesco incredibile in cui il numero delle arti è cambiato e ce n'è una che è specifica del novecento che è proprio il cinema e noi abbiamo spessissimo fatto riferimento sia ai testi che alle musiche dei film che ci stanno a cuore e quindi è così questa domanda la rivolgo a te che sei lucano cos'è la Lucania per l'acustimantico beh dunque la Lucania per noi per due di noi cioè per me per Danilo è la madre cioè questo luogo che ci contiene ma contiene anche tutto l'acustimantico è un po' un luogo di cui fidarsi cioè noi quando veniamo in Lucania veniamo e suoniamo ci fidiamo degli altri cioè questa forma di rilassamento che è sui volti di Agustimantico quindi è un luogo importante su cui fare riferimento su diversi aspetti è un respirare insieme un po' di più nascono anche molte cose molte volte siamo venuti anche in vacanza sono nati testi nuovi brani nuovi idee nuove e poi mi piace questo contrasto io arrivo oggi la prima giornata a Oliveto Lucano c'è un rito molto importante che è il rito del maggio che è un rito arboreo dove si sposa questo rito pagano all'incontro col santo con la manifestazione umana della deità è interessante perché noi siamo in una chiesa sconsacrata insieme in Lucania con una bottiglia di vino dietro che è il diciamo così il simbolo della festa anche a Oliveto Lucano perché è chiaramente lì però è interessante perché arte insieme abbiamo nascosto l'altare che però insomma è un po' il nostro altare è il modo di stare insieme di condividere la vita insieme che penso che sia la ricchezza più grande che un essere umano può avere grazie a tutti